Cornice mondiale per il secondo e terzo round che il trofeo Rally Terra ha vissuto in un'atmosfera iridata, al Rally Italia Sardegna, occasione in cui i big della serie tricolore riservata agli specialisti dei fondi sterrati si è parallelamente incontrata con i big del campionato del mondo, nella tappa italiana che si è corsa sulla tanto affascinante e spettacolare quanto impegnativa terra sarda. Quartier generale e parco assistenza ad Alghero, città che ha accolto con grande calore gli equipaggi in gara. Il rally scatta con la prova super speciale sotto gli occhi di migliaia di spettatori, raccolti sulle tribune allestite nella zona portuale di Cagliari. Il primo crono dà ragione a Ricci che usa bene l'agilità della Ford Fiesta RS per vincere la prova, seguito da Trentin e Biolghini. Sulla prova si ferma Giuseppe Dettori per noie al motore della Skoda Fabia Super 2000, noie manifestatisi anche sullo shakedown. Le altre prove portano gli equipaggi attraverso luoghi incantevoli dell'isola dei Quattromori, sulle speciali difficili ed impegnative. Una gara bella, combattuta, che alla fine dà a Mauro Trentin ed Alice De Marco su Peugeot 207 Super 2000 la vittoria nella prima delle due gare delle trofeo rally terra, previste nell'ambito delle Rally Italia Sardegna, prova italiana del campionato del mondo. L'equipaggio veneto della Movi Sport, dopo aver preso il comando sulla quarta prova speciale, lo mantiene fino al traguardo di Alghero, grazie ad una accorta strategia conservativa, molto efficace sulle dure e lunghe prove sarde. Noi siamo partiti proprio facendo dall'esperienza degli anni scorsi, con una macchina meno performante, ma più risparmio, con gomme dure, e assetto molto alto per cercare di evitare forature e rotture meccaniche. Dosso lunga, tieni, indosso dritto, pende per stop, bivio, inversione destra. Per ritarda, destra 4 più, sì, 20, sistra 2 più lunga, no, 20, destra 4 lungatini, sì, 20, palo, destra 3 lenta, sì. Secondo posto per il coriaceo ed esperto Giovanni Manfrinato, navigato da Chiara Corso sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 in versione R4, con cui l'esperto driver si è imposto in E3 dei sei crono disputati, ma ha perso quasi un minuto e la possibilità di vittoria sulla PS3 per una foratura, come lo stesso esperto pilota ha spiegato. È stata una bella gara, abbiamo fatto anche delle belle prove, però purtroppo un inserimento un po' sbagliato, un po' la macchina mi ha tirato all'interno, ho trovato un scalino, non avevo segnato sulle note, e lì mi sono giocato la gara di oggi. Terzi sul podio, Luigi Ricci con Dario 90 alle note, il bresciano della Ford Fiesta R5 che dopo aver vinto la PS1 e la 3 scivola indietro sul quarto crono quando lascia in prova oltre un minuto. Come al solito è successo quello che si temeva qua, che era la foratura, dopo le prime tre prove eravamo in testa e poi una foratura abbiamo perso un minuto, siamo andati indietro, e poi chiaramente con due chilometri di prova che abbiamo fatto dopo recuperare è possibile, quindi siamo terzi, siamo rimasti terzi insomma. Sotto al podio il trentino Luciano Cobbe, è navigato da Fabio, autore del Miglior Tempo, sulla prova speciale 6, un crono dal ritmo assai elevato con distacchi limitati. Quinta piazza alla fine, è primato in gruppo N per Gianmarco Donetto e Marco Pragani sulla Mitsubishi Lancer Evo 9, seguiti dai veneti Maurizio Morato e Marco De Montis su Peugeot 208 T16, e dall'equipaggio sardo formato dal gentleman Rudy Barbero, navigato dalla figlia Maya sulla Mitsubishi Lancer. L'appuntamento con il trofeo Rally Terra si rinnova anche il giorno dopo con la seconda gara in programma. Cambiano gli sfondi e le prove, ma a vincere sono sempre Mauro Trentine ed Alice De Marco su Peugeot 207 Super 2000. L'equipaggio della Movi Sport realizza il miglior tempo nella prima prova della giornata e sulla lunga Montelerno di 42,22 chilometri, nonostante una ruota posteriore praticamente aperta. Abbiamo cercato di mantenere la concentrazione, nell'ultima c'è stato ritardo, siamo andati dentro per attaccare, purtroppo dopo 25 chilometri circa abbiamo toccato, ho rotto il tirante della ruota posteriore, ho ottenuto, ho cercato di non mollare, di andare al massimo di quello che si poteva fare, alla fine è appagato, siamo riusciti ad arrivare fuori, i nostri concorrenti hanno avuto altri problemi anche loro, quindi abbiamo vinto benissimo. La seconda piazza va a Luigi Ricci e a Dario Noventa. I bresciani, dopo la terza posizione ottenuta nella prima gara, si migliorano con la Ford Fiesta. Sì, alla fine siamo secondi, con gara molto strana, dove devi cercare di non forare. Oggi l'andatura, all'inizio siamo partiti bene e poi su questa lunga ho cercato di prendere un ritmo tale da non rischiare di forare, però forse sono andato alla fine un pochino troppo pieno e siamo arrivati secondi. Sul terzo gradino del podio sale il bergamasco di Race Event Pablo Biolghini, navigato da David Castiglioni sulla Skoda Fabia Super 2000. Per lui un riscatto dopo lo sfortunato ritiro della prima gara. Sì, ieri purtroppo per una piccola sbavatura abbiamo rotto un braccio alla sospensione e non siamo riusciti ad andare avanti. Oggi abbiamo tirato dove potevamo, si è stati un po' più attenti nei punti brutti, si è stati abbastanza conservatori. Comunque abbiamo portato a casa un terzo posto che ci permette di prendere ancora qualche punto per il campionato. Sotto al podio conferma la quarta piazza della prima giornata il trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco sulla Ford Fiesta R5, poco abituato alle gare lunghe con prove speciali da molti chilometri. Quinti anche nella seconda giornata con la soddisfazione dell'esperienza sarda in atmosfera mondiale i piemontesi Gianmarco Donetto e Marco Pagani sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 di gruppo N. Nonostante parecchi problemi, tagliano il traguardo Rudy e Maya Barbero, papà e figlia, che sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 hanno faticato oltre il previsto nella gara sarda. Sfortuna per i veneti Giovanni Manfrinato e Chiara Corso sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 in versione R4, vincitori del secondo crono della giornata da 22 chilometri. L'equipaggio della Porto Cervo Racing dopo il secondo posto del venerdì è arrivato al traguardo, ma con un forte ritardo per il tempo lasciato sugli oltre 42 chilometri dell'ultimo crono, a causa di un problema meccanico. Si poteva fare due belle vittorie, invece per un motivo o per l'altro portiamo a casa un pugno vuoto. Anche questa qui abbiamo voluto noi di fare la prova proprio per avere il punteggio pieno per la classifica e purtroppo la rottura del supporto della pompa della benzina ci ha lagato la macchina di benzina. Abbiamo dovuto fermarci, asciugarla, scambiare le pompe e ripartire con tutto quello che ne consegue. Peccato, stavamo andando giù bene, avevamo un buon passo, un buon ritmo. Penso che ce l'avevamo fatta, però con i secchi mai si dice la storia non si fa. Prossimo appuntamento del Trofeo Rally Terra nelle weekend delle 12 luglio alle Rally di San Marino.